Diamo per noto, almeno nelle linee essenziali, quello che è successo in Russia fra il 1917 e il 1989. Quello che ci interessa in questa conversazione è piuttosto porsi una domanda e cercare di dare una risposta del tipo, ma la Russia fa parte dell'Europa, quindi la sua storia fa parte della nostra storia? Domanda interessante perché per più motivi la cultura russa e la sua storia sono pressoché ignote alla parte occidentale, come poi tendenzialmente un po' tutti i paesi dell'Est. Una storia che si è divisa specialmente proprio dal 1917 in poi e tanto più dal 1944-45 in poi. La mostra che è qui presente a Villa Rivedin sottolinea la resistenza che è stata opposta dal clero ortodosso e dai fedeli ortodossi alla persecuzione da parte bolsevica. In realtà il sistema comunista riteneva come fatto presudiziale necessario quello dell'abolizione di ogni forma religiosa, come tutti sanno. Quello che è anche interessante è che da parte occidentale a distanza si sia persa consapevolezza di questa forte forma di resistenza che talvolta si è manifestata anche in forma molto decisa, esterna. Questa resistenza d'altra parte è all'origine del cambiamento che noi abbiamo visto dall'88-89 in poi, per il quale certo è stato un elemento fondamentale il magistero, la presenza, i viaggi di Giovanni Paolo II.